Nei primi sei mesi dell'anno la ripresa sembrava essersi consolidata, ma oggi grosse ombre sul futuro le gettano le previsioni negative degli imprenditori. Dopo due trimestri positivi, infatti, il calo di fiducia generalizzato potrebbe preludere a un rallentamento della produzione industriale nel prossimo trimestre, con ripercussioni sull'occupazione che stenta a ripartire, soprattutto nelle microimprese, oggi le più esposte alle difficoltà. A dirlo, commentando i dati emersi nelle indagini Veneto con Giuntura, è Gian Angelo Bellati, direttore di Union Camere del Veneto. La produzione industriale ha registrato una crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2010 e nel confronto col trimestre precedente si è registrato un più 4,8%. Tra i settori, le crescite più marcate si sono evidenziate nel comparto delle macchine elettriche ed elettroniche, seguite dai metalli e dagli apparecchi meccanici. Sopra la media, anche tessile, abbigliamento e calzature, gomma e plastica, inferiori ma sempre positivi con parti carta, stampa ed editoria. Cattive notizie, invece, sul fronte dell'occupazione. La dinamica peggiore riguarda le microimprese, ma il segno meno permane anche per le altre dimensioni d'azienda. A preoccupare di più, in ogni caso, sono le aspettative in controtendenza degli imprenditori per i prossimi tre mesi, con la perdita di fiducia su fatturati e ordini dall'estero e aspettative bassissime per quanto riguarda i consumi del mercato interno. Le aziende, dice Gianangelo Bellati, continuano ad aggrapparsi alla propria vocazione internazionale, ma in questo contesto il ruolo delle istituzioni diventa fondamentale. Serve uno sforzo ulteriore verso l'attuazione delle riforme non più rimandabili per il rilancio dell'economia, prima fra tutte il federalismo fiscale e il trasferimento di competenze e risorse dallo Stato alle regioni.